E salve bella gente, qui è Poker76 e Azzel99 E noi siamo Poker76 e Azzel99 Raga, volevamo provare a chi avviare il nostro caro amico Gabi.bit Proprio un gioco di nostri Tu sei con il Nord Ah, sì, questa è la casa che abbiamo fatto E' notte E' notte, guarda Perché abbiamo sto a video di merda? Perché è figo, non è schifoso Salutare di merda Andiamo a decidere questo porco Sì, ma cerca di non perdere la tua casa Anzi, la nostra casa Oggi moriremo Oggi il video parlerà solo di morte Non è vero Oggi il video parlerà che staremo nella nostra casa e basta Allora raga, questo... Oggi faremo due video Uno per la punta è questo Minecraft E dopo è uno per farvi vedere gli orari che... Che l'abbiamo fatto già un po' di tempo fa Che anche lì avevamo detto Salve bella gente, qui è Poker76 Però... Naturalmente io Poker76 Me lo sono scordato di mettere come un idiota E fra l'altro sto scaricando un'app Mobize che vi farà l'autoregistrazione Aspettate... 85% E dopo faremo pure la top 10 No, dopo non lo faremo la top 10 No, dopo non lo faremo la top 10 Quando manca l'affarino Vabbè dai Dependiamo l'albero e poi riprendiamo Ok, abbiamo derubato quell'albero Uh, legno di bautella Che cazzo? Ma era l'acqua, mi ero cacato Aspettate che non si vede bene Qua si vede sfogato 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 Oh, qua Eeeeh No, vuoi la prende subito Bene, prendiamolo subito Quello stronzo è di mio fratello Manzico Si usate per le pinte e per 15 blocchie alle abbracciate Perché lui non aveva il piccolo Ragazzi, qualche volta Vabbè, qualche volta, pochissime volte Faremo i miei ragazzi sul computer E' buono Non con il mio Non con il nostro computer Con il mio Sto più tendermi Il miglior amico di mio fratello E' il secondo miglior amico di mio fratello di scuola Perché lui si chiama Gabriele Ngoglio Che salutiamo E' il secondo Alfonso E' una persona che ci segue Si, però io direi Solo per vedere i miei video mi manca Si, però io direi una cosa al mio fratello e poi dipendo Ok ragazzi Abbiamo rubato un albero e si è caricato mobili Perché dici rubato? Forse perchè è un motore epico 40 stick 40 stick Bastoni E daglielo nel culo con un maiale Almeno così si fa il stesso con un bastone muore Muori soffocato Ti ho detto muori soffocato, strunzo Muori Muori Usa la spada di diamante No, no Non vogliamo affondare Quello strunzo come un animale Allora C'è Axel 99 che dà bastonata al nulla Ok, ora sta picchiando di maiali Perchè se non gli esce la carne fuori lui ci fa sesso con loro Cazzo dice Allora, allora, allora Non dire troppe volte allora Dove cazzo sta l'ora? Ah Perchè 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 mi hai rotto il cazzo Fatti Un Piccone Di pietra Quello Eh, di legno Axel 99 Se cadevi dalle sedie e ti rompevi la testa e facevi meglio Tu E tu sei coglione Scusate Questo fa Zappa Zappa Ascia E non si fa un piccone Già me ne sono fatti Guarda Uno Due Tre Quattro Allora Mi leggo Uno Due Tre Quattro Cinque 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 piccone Quattro 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 Quattro